Musica Tentano di truffare dieci anziani col trucco del falso incidente al figlio, nessuno c'è cascato, indagano i carabinieri. Il centro-destra all'attacco della giunta seri per la perdita dei 20 milioni di euro per la variante di Gimarra. Il vice sindaco Fanesi spera nella proroga del finanziamento da destinare, ha detto, a quella strada che vuole la città. Via i parcheggi dalla piazzola di fronte all'amfiteatro Rastat, residenti, albergatori e commercianti preoccupati per il progetto di riqualificazione del lungomare di Sassoni. Non posso avere la macchina, lasciare la macchina a un chilometro di distanza da casa, con due bambini piccoli, la spesa, passeggini, pioggia, un bambino piccolo che sta male da portare dal pediatra. Non è una soluzione che va bene per noi residenti, assolutamente. In forzi per la polizia di Stato, ma nella lista delle sedi non c'è Pesaro, capitale della cultura 2024. Arriva l'appello del segretario del SUF, Marco Lanzi. Sono uscite le assegnazioni del ministero di 1160 gente, una prima assegnazione. Ci sono 54 città, non c'è la nostra città, siamo arrivati sorpresi. Proseguono i lavori in Viale Battisti a Fano, dal 2 novembre al Via, l'intervento nei controviali. Cambia la viabilità con il senso unico di marcia verso il lungomare. Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Fano TV. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono sulla nostra pagina Facebook in diretta di Occhio alla Notizia. Sono stati contattati telefonicamente da qualcuno che spacciandosi per maresciallo dei carabinieri o per avvocato gli ha detto che il figlio aveva provocato un grave incidente e che servivano soldi per evitare denunce o conseguenze penali. Vittime 10 anziani tra gli 82 e i 90 anni, residenti a Monteporzio e Castelvecchio, che ieri sono stati contattati al telefono fisso. Nessuno di loro però ci è cascato e non solo hanno rifiutato di accogliere in casa i truffatori per la consegna del denaro, ma hanno subito contattato tutti i 112 o i propri familiari per segnalare l'accaduto. Sul caso indagano i militari della compagnia Carabinieri di Fano, comandati da Maximiliano Papale, che stanno proseguendo anche i vari incontri sul territorio al fine di contrastare episodi simili. Il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo arancione valida per le giornate del 27-28 ottobre. Intensi flussi sud-occidentali attiveranno il Garbino su tutto il territorio regionale, si legge nell'allerta, con raffiche che raggiungeranno i valori di tempesta sulle zone 1, 3, 5, di Burrascaforte sulle zone 2 e 4 e Ventoforte e Burrasca sulla zona 6. Il Comune di Fano attiverà il COC, il Centro Operativo Comunale, dalla mezzanotte di oggi. A Pesaro nessun rinforzo per gli organici degli agenti di polizia. Da qui nasce l'appello del segretario provinciale del SIULP Marco Lanzi, che abbiamo intervistato questa mattina. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha divulgato il piano di assegnazione di 1.160 agenti assistenti della Polizia di Stato presso le Questure. Le città capoluogo di provincia interessate da questa prima assegnazione sono 54 e nella lista non c'è Pesaro, città capitale della cultura. Nel 2024 non si fa attendere la critica del segretario SIULP Marco Lanzi. Proprio perché Pesaro sarà capitale della cultura nel 2024 siamo rimasti molto sorpresi che sono uscite le assegnazioni del Ministero di 1.160 agenti. Una prima assegnazione. Ci sono 54 città. Non c'è la nostra città. Siamo rimasti sorpresi perché un Pesaro capitale della cultura ci saranno tantissimi eventi. Basta dire che il 20 gennaio verrà il Presidente della Repubblica, Mattarella, ma ci saranno veramente in tutta la provincia tantissimi eventi. Già adesso però siamo allo stremo perché veramente facciamo fatica a intervenire, a essere presenti su tutto il territorio, sia come volanti, sia per quanto riguarda tutti i servizi di ordine pubblico. E quindi cosa faremo nel 2024? Come faremo a fronteggiare tutti i tantissimi eventi di ordine e sicurezza pubblica? Preoccupazione in vista degli eventi sportivi ma anche per le prossime elezioni amministrative. Continuano ad esserci le partite di calcio, continuano ad esserci le partite di basket, poi a giugno ci saranno le elezioni, ci saranno quindi tante campagne elettorali. In ogni campagna elettorale quando poi viene un leader noi dobbiamo assicurare e garantire la sicurezza dei leader politici che intervengono, quindi intervenire con tantissimi uomini. Quindi veramente siamo sorpresi che non ci sia stato assegnato nessun uomo, anche perché abbiamo fatto questa riflessione. Decideranno forse di aggregarceli da altre città, ma dove li manderemo a dormire? Non so, i 100 uomini di rinforzo, i 50 uomini di rinforzo che dovranno mandarci. Soprattutto d'estate quando già quest'anno abbiamo fatto pratica a collocare 4 uomini di rinforzo negli alberghi che erano tutti pieni. Sarà molto difficile. Problemi a Pesaro e non solo, da una nota diramata dal segretario provinciale SILP Pesaro, si legge che il commissariato di Urbino ha solo 28 operatori a fronte di un organico previsto di 45. Inoltre sulla nuova sede è calato un totale silenzio nonostante quella attuale sia inadeguata e abbia notevoli criticità strutturali e di sicurezza per operatori e cittadini. Il commissariato di Fano continua ad avere un numero di agenti assolutamente insufficiente ed in gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dal ministero. Infine la polizia stradale ormai noi diciamo che è in via di estinzione, sta sparendo. Addirittura capita spessissimo che in tutta la provincia noi non abbiamo una sola macchina. Tempo fa, ma non è il caso isolato, c'è stato un incidente molto grave, una persona ricoverata in ospedale per il codice rosso, non c'era la pattuglia della polizia stradale e ancora cosa più grave, cosa che prima non si verificava mai, cominciano a mancare anche le pattuglie nel tratto autostradale da Ancona a Cattolica che deve coprire il tratto autostradale e la sottosezione di Fano, cosa incredibile, non avere una sola pattuglia dove la polizia stradale poi ha l'esclusiva, lì non possono entrare i carabinieri e non può entrare neanche alla volante, è un lavoro molto specifico e non c'è una sola pattuglia e capita sempre più spesso. E il servizio era di Marco Lonigro. Proseguiamo con il nostro telegiornale perché sabato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al ministro per la coesione, Raffaello Fitto, sarà nelle Marche per firmare l'accordo di coesione tra governo e regione. L'annuncio è stato dato ieri sera su Facebook dal governatore Francesco Acquaroli. La firma avverrà da Qualagna, città natale di Enrico Mattei. Le Marche, ha aggiunto Acquaroli, sono la seconda regione in Italia a aggiungere a questo importante risultato per il quale ringraziamo il governo e tutte le strutture tecniche. Oggi invece il presidente Acquaroli è intervenuto sul risultato conseguito dall'azienda ospedaliera universitaria delle Marche che per il secondo anno consecutivo si conferma come il miglior ospedale pubblico d'Italia nel programma nazionale Esiti. Un risultato non scontato, ha detto il governatore. Considerate le criticità che tutta Italia sta affrontando nel comparto della sanità. È frutto innanzitutto dell'eccezionale impegno ed edizione di tutti i medici, infermieri e operatori che lavorano quotidianamente al servizio della salute dei cittadini. Come regione ha concluso, attraverso le riforme messe in campo, lavoriamo al loro fianco per migliorare sempre di più i servizi e le risposte, ma anche per ottimizzare il più possibile l'organizzazione degli enti sanitari sul territorio. Il Ministero delle Infrastrutture, dopo che il Comune non è riuscito ad utilizzare i 20 milioni provenienti dal fondo CIPES entro la scadenza del giugno scorso, non li ha confermati. Fano perde così una grande opportunità, ma la colpa secondo i partiti del centrodestra, quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc, è tutta della giunta seri perché ha insistito nel voler impiegarli per la variante di Gimarra. Sentiamo. Il Ministero delle Infrastrutture si è giudicato incompetente ad approvare la deroga per la concessione dei 20 milioni per la realizzazione degli interquartieri. Loreta Manocchi, come considerate questa decisione che è penalizzante per Fano? Sì, è penalizzante e oggi perde Fano, ma la responsabilità è in capo al primo cittadino e alla giunta che nel corso di questi cinque anni non è stato capace di impiegare e investire una somma che Fano non ha mai visto. Le possibilità e le alternative c'erano, i nostri dirigenti regionali, penso anche all'assessore Baldelli, ha formulato varie proposte dove potevano essere investite delle somme, somme che avrebbero sicuramente migliorato la viabilità di Fano, ma che per ragioni politiche, per ragioni strettamente interne al PD e all'attuale giunta, hanno portato ad insistere su la variante di Gimarra che era assolutamente una decisione scelerata, laddove le somme, i 20 milioni, non erano assolutamente sufficienti, dove sono cambiate le condizioni rispetto al 2018 e che quindi perde Fano, perde 20 milioni, una somma appunto che non ha mai visto e questa è assolutamente una decisione politica, nonché tecnica, assolutamente scelerata. Nel frattempo ci sono state impiegate delle risorse economiche anche per la progettazione che chiaramente vengono meno. Ci auguriamo che comunque anche con la spinta del centro-destra queste somme non vadano assolutamente del tutto perse, ma possano essere riempiegate per la città di Fano per una diversa viabilità, non certo per quella strada. Alessandro Brandoni, la viabilità fanese continua a rimanere nel caos, nonostante appunto la bocciatura di questo grande progetto. Ora, quale sarà l'atteggiamento della Lega? L'atteggiamento della Lega sarà quello di sempre, un atteggiamento costruttivo e con una visione del futuro chiara, quella che purtroppo non ha avuto questa amministrazione. Nel programma di mandato avevano detto che avrebbero realizzato le opere aduttive al nuovo casello del Fenile e tutta una serie di opere per la viabilità dei quartieri interessati, quindi Fenile, Rocco Sambaccio. Invece non è stato così, a un certo punto hanno deciso di provare a fare una strada che portasse verso nord passando per Gimarra. Nessuno ancora ha capito per quale ragione c'è stato questo cambiamento e alla fine siamo arrivati in una situazione dove una parte della Giunta voleva quest'opera, la parte relativa del PD e una parte, quella delle liste civiche, non aveva nessuna intenzione di farla. Siamo arrivati all'ultimo momento utile e disponibile, quello di giugno, con un voto risigato in Consiglio Comunale c'è stata l'approvazione di quest'opera, ma ormai era troppo tardi e adesso i soldi sono persi, purtroppo sono persi per Fano. Noi cercheremo di recuperarli per avere delle opere diverse, chiaramente siamo ancora contrari a questa strada e non possiamo dire che vogliamo portarla avanti. E le interviste erano di Massimo Foghetti. Questa mattina a margine della conferenza stampa sul PRG, il vice sindaco Cristian Fanesi ha risposto anche sui 20 milioni di euro per i quali spera nella proroga da parte del Governo. Sentiamo. La strada di Gimara abbiamo mantenuto la previsione urbanistica che è stata approvata dal Consiglio Comunale, dalla provincia, dalla regione Marche e anche dalla sovrintendenza attraverso un accordo di programma e questa previsione è certamente una previsione che ha attirato critiche un percorso molto lungo, un percorso legittimo che ha autorizzato la previsione di questa strada che dovrà collegare la vecchia interquartiere con la Statale 16 e snellire il traffico in quella parte di città, soprattutto lungo la Statale e lungo via Roma nella parte iniziale vicino all'arco d'Augusto. Questa è una previsione che noi quindi abbiamo mantenuto legittimamente prevista dal Consiglio Comunale. Questi giorni, quando si parla di questo tema, si muove sempre la politica e si muove anche la contrapposizione politica in questa città. Vorrei dire questo, non mi meraviglia la cosa. In genere su questo tema si coagulano poteri forti e interessi personali e lo sappiamo e lo sappiamo anche come si muovono. Noi abbiamo chiesto una proroga al Governo, la proroga ancora non è arrivata e abbiamo disponibile un progetto che può partire anche da domani mattina e ci auguriamo che il Governo voglia ritenere questo progetto importante per non perdere in questa regione 20 milioni di euro che comunque vengono dall'Europa e che comunque servono a risolvere un problema per la nostra città, al di là delle divisioni che questo tema ha comportato negli ultimi mesi dal punto di vista politico. Si risolve un grosso problema, si raggiunge l'obiettivo di utilizzare a pieno i fondi europei e quindi noi ci auguriamo che possa arrivare a breve una proroga da parte del Governo e che altrimenti si prenderebbe una grossa responsabilità perché la città di Fanno sostanzialmente questa strada la vuole. I vigili del fuoco questa mattina intorno alle 8.45 sono intervenuti con tre automezzi in via Spadolini a Osteria Nuova nel comune di Montelabate per l'incendio di due autovetture. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza i veicoli coinvolti, uno dei quali alimentato a GPL. Sul posto presente anche la polizia locale di Pian del Bruscolo. E adesso vi mostriamo queste fotografie di una nostra reporter di strada che segnala le pessime condizioni dell'isola ecologica di Sant'Andrea in Villis. Se non mettono le telecamere, ci ha scritto nel messaggio, sarà sempre una discarica abusiva. Ha allarmato residenti, albergatori e commercianti il progetto di riqualificazione del lungomare di Sassonia che prevede anche l'eliminazione di alcuni parcheggi. Sentiamo allora i pareri e le preoccupazioni che Stefania Scheroli ha raccolto per noi. Presentato il progetto Waterfront sulla riqualificazione della zona Sassonia, tra i punti più critici, residenti, operatori turistici e commercianti lamentano la prevista riduzione dei parcheggi già limitati con precedenti provvedimenti. La situazione, almeno avendo visto le nuove notizie del Foto, sappiamo che verranno ridotti dei parcheggi, quindi questo un po' ci preoccupa perché già non c'è abbondanza. Quindi perderne altri rappresenterebbe un problema, non solo già da adesso, quindi immagino anche per la prossima stagione estiva. Poi soprattutto per i residenti. Sia per i residenti sicuramente, anche per i turisti, perché già a volte trovano difficoltà a trovare posti durante l'estate, quindi se si diruderanno ancora sarà, penso, un problema. Secondo lei quali sono le soluzioni? Se l'unica è trovare delle alternative, adesso sinceramente non saprei dare un consiglio. Però c'è assolutamente necessità di intervenire? Se si tolgono lì bisogna recuperarli da qualche parte, insomma. Molti residenti come noi non hanno parcheggio, non hanno garage, non hanno posto auto. Qui la situazione è già molto difficile, parcheggi non ce ne sono. Quando torniamo a casa siamo costretti a girare e rigirare per trovare un parcheggio, che spesso sotto casa e vicino a casa non si trova. Sono già stati tolti tanti parcheggi, con la ciclabile di via Danteleghieri e quant'altro. Con il nuovo progetto verranno tolti altri, loro parlano di 15 parcheggi, ma in realtà noi li abbiamo contati, sono 27, sono molti di più. Ci verranno tolti tutti questi parcheggi sotto casa, per cui per noi diventa veramente invivibile. La soluzione che dicono del parcheggio, del nuovo parcheggio agli orti, non può essere una soluzione adatta ai residenti. Sono a favore di una riqualificazione della Sassonia, però il progetto deve essere fatto con criterio. Bisogna pensare non soltanto all'estetica, ma anche alla vivibilità, all'esigenza dei cittadini, di chi ci abita. Secondo lei, quanto sono importanti i parcheggi al mare? Sono importantissimi. Uno che viene giù al mare, che vuole prendere una boccata d'aria buona, devo fare un giro come faccio io adesso, faccio una passeggiata. Vengo con la macchina dove la metto? O di pazzo si vuole, la città è vecchia, però la concezione, le comunicazioni, i giri è diverso. Non è che abbiamo più i carretti come una volta. Chiediamo al comune un aiuto per i parcheggi, perché comunque prima di toglierli sarebbe meglio trovare una soluzione alternativa. Anche perché i residenti hanno bisogno di parcheggiare le macchine qui nei dintorni e noi comunque dell'attività dobbiamo lavorare. Chiediamo al comune se ci può sostenere in questo caso. Penso che questa cosa sia positiva, però ovviamente il parcheggi è un problema grande per Fano e quindi penso che in questo progetto debba essere considerato anche il fatto di trovare una soluzione diciamo compensando, trovando nuove soluzioni per i parcheggi. Certamente perché questo può creare tanti problemi alle attività, alle persone che risiedono qua. Che cosa ne pensa di questo nuovo progetto che toglierà tutti questi parcheggi in Sassonia? Loro credono di fare le cose per il bene, sicuramente ci sarà anche un progetto per migliorare la cittadinanza però quello che ai residenti interessa è il parcheggio perché se no, primo, non possono posteggiare vicino casa secondo, non si può trovare nessun parcheggio per dire vado a fare una passeggiata al mare. Il motivo che lo stiano facendo questo non lo sappiamo. Vediamo, lasciamo il tempo al tempo. Rinnoviamo l'appello alla collaborazione dei cittadini per svolgere al meglio la pulizia straordinaria dei viali della zona del mare. Così Enzo Belloni, Assessore all'Operatività, ricorda le operazioni di pulitura che il Comune di Pesaro, in collaborazione con Marche Multiservizi, sta svolgendo nei giorni feriali dalle ore 12 alle ore 18 fino al 31 di dicembre. Per effettuare lo spazzamento dei viali dai rifiuti e dalle foglie il Comune ha infatti emesso un'ordinanza che prevede divieti di sosta con sanzioni e rimozione dei mezzi nelle zone interessate dagli interventi e segnalati dai cartelli appositi già da giorni. Ci sono ancora troppi veicoli parcheggiati lungo la strada, ha aggiunto Belloni. Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli per verificare il rispetto dell'ordinanza e la rimozione dei veicoli. E torniamo a Fano per parlare dei lavori in corso lungo Viale Battisti perché dal 2 novembre l'intervento si sposterà nei controviali e cambierà la viabilità. Allora sentiamo tutti i dettagli nell'intervista realizzata all'Assessore. Un aggiornamento importante per quanto riguarda il cantiere di Viale Battisti sta proseguendo tutta la posa della pavimentazione a Selci su Piazzale Rosselli che si uniformerà anche a quello che è via Corso Garibaldi e successivamente, esattamente il 2 novembre, passeremo alla lavorazione dei controviali di Viale Battisti. Finalmente si inizia anche da quella parte, precisamente dall'intersezione con via D'Antalighieri lato Monte. Quindi inizieremo da quella parte nella movimentazione e smantellamento della pavimentazione poi faremo le cordolature, metteremo a posa tutto quello che è il Selciato che farà parte di quello che è la nuova pavimentazione, le redi, il verde e così via. A quel punto passeremo nell'altro controviale lato mare e terminato questo andremo a lavorare su quello che è l'asfalto centro strada che quello necessiterà invece di una interdizione proprio del traffico per qualche giorno. Per il momento la viabilità sarà così organizzata dal 2 novembre il senso di marcia da Monte verso mare del Cavalcavia e quindi di Viale Battisti sarà a senso unico, con possibilità di accesso in via Gentile tramite il Cavalcavia che sarà invece aperto sino a sino a dicembre. È chiaro che daremo poi degli aggiornamenti in base all'andamento dei lavori mano a mano che si effettueranno ma è un cantiere questo che insomma per la prossima bella stagione dovrà essere terminato anche perché non dimentichiamoci il Giro d'Italia probabilmente passerà da lì. Mentre la città di Fano e il Comitato di Carignano attendono risposte sul futuro delle terme l'assessore Cristian Fanesi ha confermato che non c'è stato nessun passo in avanti dalla presentazione dei rendering avvenuta un anno fa. In termini di Carignano abbiamo previsto nel piano regolatore di stracciare e di mantenere la previsione vigente dobbiamo riconoscere che però a parte la presentazione del progetto inizialmente fatta dalla società che ha acquisito i terreni dal falimento non abbiamo avuto passi in avanti formalmente non abbiamo avuto nessuna comunicazione nonostante questo abbiamo tenuto aperta la finestra per poter creare le condizioni affinché ci venga presentato un progetto un progetto su cui noi crediamo tanto noi abbiamo sempre inteso quella conversione urbanistica come importante per la città dal punto di vista turistico e dal punto di vista storico perché sì, noi vorremmo che vengano riaperte le vecchie terme di Carignano che erano in un certo senso il motore di tutto che sono in un certo senso il motore di tutta quella trasformazione urbanistica senza il quale ovviamente non ci potrebbe essere trasformazione urbanistica quindi crediamo che l'obiettivo della nostra città è quello di riaprire le terme dare una connotazione turistica ed eventualmente prevedere in maniera ancillaria anche delle trasformazioni che producono altri redditi quindi va benissimo anche la previsione di una clinica che possa, come dire, sostenere l'investimento Sabato 28 ottobre alle ore 18 sarà presente a Palazzo Martinozzi in Viarco d'Augusto Afano Gianluca Ferrara saggista e studioso di geopolitica già senatore del Movimento 5 Stelle capogruppo della Commissione Estri al Senato e delegato italiano all'Assemblea Parlamentare dell'Ocse l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa all'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle si parlerà delle cause e delle conseguenze della guerra in Ucraina nell'occasione Ferrara presenterà il suo ultimo libro intitolato La resa dei conti come e perché si sta trasformando l'ordine mondiale altra iniziativa della Confederazione Italiana Agricoltori sugli alimenti funzionali quest'anno l'attenzione è stata rivolta alla cicoria Una pianta antichissima diffusa in tutto il mondo capace di adattarsi ad ogni tipo di clima e terreno è stata la cicoria la protagonista del convegno annuale della CIA sugli alimenti funzionali conosciuta fin dall'antichità sia come elemento sia a scopo terapeutico per i suoi effetti depurativi e benefici la cicoria è ricca di vitamine C ed è a proprietà digestive, antivirali, antibatteriche antitumorali, antiossidanti e drenanti dal punto di vista di spesa di coltivazione è veramente ridotta al minimo è una pianta che ci evoca ricordi tra virgolette così siamo cresciuti un po' pane cicoria per cui uno pensa alla cicoria dal punto di vista di un alimento amaro poco gradevole è la sua caratteristica primaria è la sua caratteristica primaria che poi diciamo è quello che gli fa bene ma proprio la cicoria non è solo quel ricordo nel senso che la cicoria noi pensiamo a lei alle punterelle alla Catalogna però ad esempio non pensiamo mai che un radicchio rosso è una cicoria che il pan di zucchero è una cicoria esistono un centinaio di varietà che sono sempre delle cicorie ultimamente sta riscoprendo anche diciamo uno sbocco di mercato molto interessante che è quello degli integratori alimentari perché la radice soprattutto della cicoria contiene questo principio attivo che è l'inolina molto importante per quanto riguarda il discorso del benessere e dalla cicoria si ottiene una farina che viene utilizzata adesso a sostituzione dello zucchero per cui la ritroviamo in tutti i prodotti da forno molto utilizzata ormai nelle diete cheto che stanno prendendo diciamo il sopravvento sempre di più per cui proprio un utilizzo è una richiesta superiore a quello che possiamo immaginare il convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Pesero Urbino si è svolto a Casal San Sergio a Fossombrone grazie al contributo della Camera di Commercio delle Marche come CIA di Pesero Urbino vogliamo in qualche modo far sì che questa cultura entri anche nelle nostre aziende nelle rotazioni culturali possa avere uno sbocco sul mercato e possa essere un'integrazione di reddito per le nostre aziende in un anno molto particolare come questo in cui tra l'alluvione la siccità le calamità e i prezzi dei prodotti è un anno molto difficile per cui vediamo diamo come per dare una speranza e una possibilità di qualcosa di nuovo bene occhio alla notizia finisce qui ora vi lascio alle previsioni del tempo e poi un approfondimento sulla nuova stagione di Guarda Chi C'è che torna su Fano TV dal prossimo 2 novembre infine uno speciale della CIA la Confederazione Italiana Agricoltori sul tema della cicoria grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata sulla nostra rete grazie